E noi ci siamo, comunque vada Marco Di Costanzo e Giovanni Abagnale, ci sono, sotto gli occhi del Cristo Redentore, parte quindi questa finale del 2 senza. Non dobbiamo crollare noi, ce la dobbiamo fare e prendercela questa medaglia di bronzo, sarebbe la cosa perfetta, sarebbe il capolavoro olimpico per quanto riguarda Marco Di Costanzo che fa spingere, spinge, affonda la Gran Bretagna, affonda Stuart Hintz, scrivono il loro nome nel libro delle anime immortali, nel libro della storia, nessuno prima di loro del 2 senza, siamo medaglia di bronzo ed è pazzesco qui a Rio. Grazie a tutti.